Il primo compito di un leader è delegare, controllare e correggere. Se un leader non sa fare questo, non è un leader. Ma molto frequentemente per la paura che la decisione non venga messa in atto nel modo giusto, quindi la paura di sbagliare perché a chi delego non do piena fiducia, c'è un eccesso di controllo che a un certo punto porta la persona a non sopportare quel carico e ad andare in crisi. Un altro aspetto estremamente importante da considerare è che le decisioni non sono tutte uguali. Ci sono decisioni e decisioni. E se vogliamo analizzare in modo da creare un modello che aiuti le persone che devono decidere a farlo nel modo migliore e soffrendone il meno possibile, dobbiamo valutare anche le differenze strutturali tra decisioni. Per esempio, c'è una differenza non da poco tra una decisione critica e una decisione inevitabile. Se il commissario tecnico di una nazionale deve prendere la decisione su chi far giocare e chi tenere fuori può andare molto in crisi perché sa bene che favorirà chi mette in campo, danneggerà chi non mette in campo. E' una decisione critica, ovvero qualche d'uno sarà danneggiato dalla mia decisione. Ma una decisione inevitabile è molto peggio perché è una condanna. Se, come è capitato a me più volte, il mio amato cagnolone si ammala, ha un tumore osseo e morirà attraverso una sofferenza progressiva sempre più devastante, la decisione inevitabile è arrestare questa sofferenza, che vuol dire decidere di sopprimerlo. E' una decisione inevitabile e chi ha provato questa esperienza o qualcosa di simile sa quanto è sofferto. Ma ci sono altre decisioni che sono in contrasto tra di loro. Le decisioni complesse, quando io per giungere alla decisione devo fare tutta una serie di procedimenti di ragionamento e di soluzione di problemi per giungere a comprendere qual è la mossa giusta da fare, qual è la strategia, quali sono le tattiche e queste sono le decisioni che implicano un processo decisionale elaborato dove la parte del ragionamento strategico la fa da padrone, anche se poi deve fare i conti con le emozioni. Ma ci sono decisioni che sono le decisioni intuitive che sono su un ambito completamente diverso. Molti di voi sapranno che io seguo da anni la Nazionale di Scherma e anche altri atleti di sport di combattimento. In tutti i sport di combattimento le decisioni sono intuitive, non possono essere decisioni pensate, perché se io penso a che colpo dare arrivo in ritardo, perché tutto deve essere fatto anche in questo caso in millesimi di secondi. E qui deve educare la paura a farmi fare la cosa migliore. La paura diventa coraggio. Il coraggio di fare l'azione anche temeraria, ma non c'è tempo per pensare. Mi deve venire. Le soluzioni devono calzare ai problemi. Non possiamo applicare una soluzione standard a problemi che funzionano in modo diverso. Quindi non utilizzerò lo stesso tipo di intervento per una decisione critica rispetto a una decisione intuitiva, o per una decisione estrema rispetto a una decisione complessa e così. Ma dovrò calzare il tipo di aiuto che do alla persona in modo che si giunga alla decisione e alla modalità di controllare emozione e ragionamento per giungere alla decisione giusta, che calzi a quella tipologia di decisione. Infine, solo infine, per saper decidere ci sono anche dei procedimenti logici che ci possono aiutare. Abbiamo formulato un modello specifico e il problem solving strategico è una modalità di trovare soluzioni alternative quando la ragione lineare non basta. Voi sapete che molto frequentemente noi non troviamo soluzioni a problemi perché continuiamo a ragionare in una maniera lineare. Ovvero, usiamo il buon vecchio Aristotele, vero, falso, terzo, escluso, principio di non contraddizione, coerenza, congruenza. E entro questo modello di ragionamento, per quanto possa essere evoluto con logiche avanzate, se il fenomeno non funziona con quella logica, non calza. E rischio di andare fuori pista semplicemente perché voglio che il problema calzi alla soluzione, non la soluzione, è il problema. Ora sappiate che la maggioranza delle dinamiche problematiche delle persone, non solo le patologie, la maggioranza delle dinamiche, non risponde a una logica lineare.